Carra Conca, presidente di SIEC, System Integration Experience Community, siamo qui a Milano, al centro Milano Congressi, dal 21 al 22 novembre, per due giorni della System Integration. La grande novità che presenta l'associazione è la formalizzazione della nuova prassi di riferimento per il settore, una prassi che indica un percorso di qualità per le aziende del settore. Noi siamo parte del SIEC che sia dalla fondazione, per cui siamo particolarmente sensibili a tutte le problematiche relative alla formazione, al miglioramento delle qualità professionali degli operatori di settore, da chi si occupa di SIEC e di SIEC. Mi chiamo Godwin Demicoli, sono il direttore regionale della Infocom per l'Europa. La SIEC è per noi la piattaforma che ci aiuta a fare la formazione, la certificazione e poi anche i nostri standards nell'Italia. Siamo di nuovo qui in SIEC Convention, che rispetto all'anno scorso ha avuto sicuramente un avanzamento, anche come tipologia di ambiente e pubblico che ci è venuto a trovare. La SIEC è una manifestazione particolare, vorrei dire una manifestazione di nicchia riservata al settore dell'audio, video e dei controlli che però riesce a catalizzare tramite l'associazione SIEC un'importante quantità di aziende nel settore, protagonisti e un numero non indifferente di attori della catena del valore. Abbiamo avuto dei feedback molto positivi, la redemption dei visitatori è stata buona, molto buona considerando anche i tempi. L'interesse è stato attivamente partecipe, soprattutto per quello che riguarda le tematiche che bene o male interessano trasversalmente tutti gli espositori. Per quello che riguarda il futuro, l'obiettivo è quello sicuramente di ripetere quantomeno un evento del genere. Abbiamo questo sogno di fare nel medio periodo un evento prettamente espositivo, l'obiettivo ovviamente è Expo 2015. Grazie per la visione!